C'è la mia osservazione su quello spunto, giusto? Stiamo parlando da quando erano due anni, da settanta, settanta. Questo è iniziatto con i piedi giusti nel 99. Lui si è obbligato anche perché diceva, ma io non posso dividere quello che voglio con chi mi ha aiutato. Mi sono spiegato quello che vuole. Abbiamo da prendere distanze. Perché le distanze essi erano atteggiate. Si avessero messo tutto, modificato come una legge brutta che c'era. E' ragione se ci avessi iniziatto.